Sarà dedicata allo sport e al tempo libero l'area pensata per l'ex zuccherificio grazie a un progetto studiato dai tecnici dell'ufficio comunale, l'urbanista Piamicoli e l'ingegnere Marco Ferri. Dopo aver intrapreso un percorso partecipato con esperti e cittadini, oggi l'assessore Paolini ha presentato lo stato di avanzamento. Il luogo potrà trovare il suo simbolo e la sua identità nel tema delle torri, reinterpretabili nella forma, nei volumi e nella posizione. Gli edifici esistenti inoltre potrebbero essere recuperati almeno in parte e nel progetto rientrano una piscina e un centro congressi dedicato ad eventi culturali, musicali o professionali capaci di accogliere fino a 2000 persone. L'area potrà comprendere attrezzature e servizi per lo sport come le palestre ma anche spazi per gli sport minori, ad esempio lo skate o il tiro con l'arco. Sono previsti infine dei collegamenti ciclopedonali, un ampio parcheggio, un'area naturalistica e case coloniche al servizio di un'oasi faunistica che sarà fruibile per scopi scientifici e didattici. Noi su questo avviamo la ricognizione dell'interesse imprenditoriale, nel senso che chiediamo ai soggetti imprenditoriali di dire ma voi questa parte della previsione sareste interessati ad attuarla e con che, così, controproposta in qualche modo, con che equilibrio di gestione in qualche modo, in modo tale che noi raccogliamo tutta una serie di strumenti che potremmo proporre alla società Madonna Ponte per un accordo di programma, chiaramente a chiusura, dell'iter giurisdizionale che spero che sia ormai prossima. Noi intanto già abbiamo fatto degli approfondimenti su uno strumento di finanza europea che è l'AIF che potrebbe essere attuato come strumento che aiuta la realizzazione dell'intera area per la parte delle aree umide, della rinaturalizzazione. Quindi potrebbe essere un concorso che aiuta l'intera realizzazione. Una delle richieste è anche quella della piscina. Sì, tutto il laboratorio e anche i tavoli con gli stakeholders propedeutici hanno individuato la piscina come il bisogno più sentito da parte della città. In generale le strutture sportive vengono ritenute insufficienti e quindi avere un'area libera a disposizione, tutti hanno pensato di riempirla, insomma, di servizi e strutture per lo sport. La piscina prima tra tutte. L'ipotesi è che una piscina in quest'area farebbe da volano poi per tutte le attività anche imprenditoriali che nell'intorno potrebbero nascere. Oltre alla piscina anche qualcuno proponeva di trasferire qui un palazzetto dello sport, insomma, più capiente, più moderno. Le palestre già ci sono, c'è una richiesta di palestre, quindi potrebbero pensarsi strutture per le palestre e abbiamo avuto una grande partecipazione di rappresentanti di sport minori che cercano attrezzature particolari, insomma, chiedono di tenerli presenti. Il commercio sarà semplicemente in funzione delle destinazioni, quindi se è l'area sportiva si potrà pensare ad attività commerciali legate allo sport, a servizi di ristorazione, bar, cose del genere o se proprio a strutture commerciali specifiche, quello che viene richiesto è una vetrina dei prodotti locali oppure una vetrina dei prodotti legati all'investimento prevalente nell'area, per esempio un gruppo ha proposto la moda, un altro ha proposto la canapa, eventualmente questi investitori vorranno magari poi commercializzare i loro prodotti, ma non un centro commerciale.